ciao a tutti amici di youtube sono qui oggi per un nuovo video tutorial e oggi vediamo come applicare la mod too many items a minecraft andiamo su google scriviamo too many items eccolo qua metterò il link in descrizione una volta che si è aperta la pagina facciamo download for beta la 1.6.6 e la 1.6.5 ok una volta scaricato questo pacchettino rar perché sarà poi un archivio rar andiamo in start cerca e facciamo percentuale app data percentuale ci aprirà e andiamo enter in andiamo su punto minecraft poi facciamo bin e questo file minecraft diciamo apri con rar ok apriamo too many items in quest'altro pacchettino rar e copiamo il tutto così in quest'altro pacchettino rar una volta che abbiamo copiato qua ci sarà una cartella che si chiamerà che si chiama metainf metainf dobbiamo eliminarla questa cartella altrimenti praticamente non ci si bloccherà mincraft su una schermata nera quindi vi consiglio vivamente di eliminare quella cartella ricordo che si chiama metainf ok salviamo tutto andiamo sul gioco minecraft vediamo se posso farlo partire andiamo un po' andiamo un po' andiamo un po' login single player va beh vedete avremo questa schermata dove ci saranno tutti gli elementi per minecraft vedete c'è praticamente davvero tutto le armi loro i diamanti il ghiaccio di tour al fuoco e anche l'acqua la lava le armature e tutto c'è davvero tutto basta fare un clic e ci potrà tutto qua ad esempio vedete aumentato a 64 ok per questa guida è tutto spero di esservi stato utile e al prossimo video tutorial ciao a tutti